I narcisisti al comando del mondo, perché cercano il potere e come influenzano la società? Il tema dei narcisisti al comando del mondo è sempre stato un argomento di grande interesse, specialmente negli ultimi anni in cui la cultura del self-promotion e dell'individualismo sembra essere sempre più predominante nella nostra società. Perché i narcisisti ambiscono così tanto il potere e perché sembrano essere così bravi ad ottenerlo? Quali sono le conseguenze per la società quando i narcisisti detengono il potere? In questo video cercherò di rispondere a queste domande e di esplorare le possibili soluzioni per invertire questa tendenza. Sono Paola Fendoni e vi do il benvenuto sul mio canale dove tratto il tema del narcisismo e delle relazioni tossiche. Innanzitutto è importante definire cosa si intende per narcisismo. Il narcisismo è una tendenza a concentrarsi eccessivamente su se stessi e sul proprio benessere e a volte a discapito degli altri. Le persone narcisistiche spesso hanno un grangioso senso di autoimportanza, pensano di essere superiori agli altri e hanno bisogno di ammirazione eccessiva da parte degli altri. I narcisisti sembrano avere una grande affinità per il potere e per il controllo e questo li porta a cercare posizioni di autorità e di leadership in vari settori della vita sociale come la politica, la finanza e il lavoro. Ma perché i narcisisti sono così attratti dal potere? Una possibile spiegazione è che il potere offre loro un'opportunità per ottenere l'attenzione e l'ammirazione che cercano. Inoltre il potere offre la possibilità di esercitare il controllo sugli altri, il che può soddisfare il loro bisogno di sentirsi superiore e di avere un senso di potere e controllo sulla propria vita. Inoltre i narcisisti sembrano essere abili nel raggiungere il potere. Una delle loro tattiche principali è quella di utilizzare l'autopromozione e la manipolazione per raggiungere i loro obiettivi. I narcisisti sono spesso molto bravi a presentarsi sotto una luce positiva e a manipolare gli altri per ottenere ciò che vogliono. Inoltre possono utilizzare il loro carisma e il loro fascino personale per convincere gli altri a seguirli. Inoltre i narcisisti sembrano essere molto determinati e ambiziosi e sono disposti a fare qualsiasi cosa per raggiungere i loro obiettivi. Questo li rende spesso molto competitivi e pronti a sfruttare qualsiasi opportunità per ottenere il potere. Quali sono le conseguenze per la società quando i narcisisti detengono il potere? Ci sono diverse possibili conseguenze negative. Innanzitutto i narcisisti tendono ad essere molto autoreferenziali e questo può portarli a prendere decisioni che soddisfano solo i loro bisogni personali a discaputo degli altri. Inoltre i narcisisti possono essere poco empatici e incapaci di comprendere i bisogni degli altri, il che può portare a politiche e decisioni insensibili e dannose per la società. Infine i narcisisti possono essere molto avversi alla critica e al feedback, il che può rendere difficile per gli altri influenzare le decisioni dei narcisisti e portare un'assenza di trasparenza e responsabilità nella loro leadership. Quindi come possiamo invertire questa tendenza? In primo luogo dobbiamo cercare di identificare i narcisisti che cercano il potere e mettere in guardia gli altri contro di loro. Ciò richiede una maggiore consapevolezza e comprensione del narcisismo in modo da poter riconoscere i segni di un leader narcisista. Inoltre dobbiamo promuovere la leadership basata sull'empatia e sulla responsabilità sociale. Ciò significa incoraggiare e sostenere leader che mettono le esigenze della società al di sopra dei propri interessi personali e che sono disposti ad ascoltare e ad agire sulla base dei bisogni degli altri. Inoltre dobbiamo incoraggiare un maggior coinvolgimento dei cittadini nella politica e nelle decisioni della società in generale. Ciò significa promuovere una maggiore trasparenza e responsabilità nelle leadership e un maggiore coinvolgimento dei cittadini nella decisione sulle politiche e sui programmi che li influenzano direttamente. Infine dobbiamo continuare a promuovere la consapevolezza del narcisismo e della sua negatività sia attraverso la sensibilizzazione pubblica che attraverso la formazione delle persone. Solo attraverso una maggiore comprensione del narcisismo e delle sue conseguenze negative possiamo lavorare per invertire questa tendenza e promuovere una leadership sana e responsabile nella società. Questo è quello che sto portando avanti con il mio canale e le mie attività. È davvero importante mantenere accesi i riflettori su questi comportamenti e far conoscere a più persone possibile queste dinamiche. Per questo ti invito ad iscriverti al mio canale e a condividere questo video sui tuoi social preferiti e se hai bisogno di contattarmi in privato invia una mail a paolafendi ciocciolagmail.com. Ci vediamo nel prossimo video.